Per la seconda volta i 13 concorrenti dietro le ali dell'autostart, il primo segnale era stato richiamato ancora prima dello stacco, dunque partenza non valida. Si ritrae dall'ala Giovanni Pulici con Paul Deleonale contro il favorito Pagatré 51 per il comando Primo Lassem con in fuori Prisman. Prisman, Prisman in lotta avanti a Palaia, l'errore di Prisman, spila così Prisman, Prisman all'avanguardia in seconda posizione, il numero 6 Pensiero di Mar, l'errore del 3 Petrosino GK, il completamento della piegata con Prisman all'avanguardia in seconda posizione, il numero 6 Pensiero di Mar, in eserza il numero 1 Palaia. Poi esiste all'esterno Pensiero di Mar che dopo 500 metri passa al comando, guida Pensiero di Mar, in seconda il numero 4 Prisman, in terza l'1 Palaia, in quarta il numero 8 Platinum Plus, e poi all'esterno il 10 di Pussichet e in risale intanto Prado del Ronco. Tommaso di Lorenza è uno dei favoriti per la vittoria della crociera, ma sbaglia però Prado del Ronco. La squalifica per Prado del Ronco, sempre in vantaggio Pensiero di Mar, in seconda posizione all'esterno Pussichet e in, in terza il numero 4 Pleisman, quarta lungo la corda Palaia. Poi per le corsie esterne l'8 di Platinum Plus, dal gruppo prova a recuperare anche il numero 7 Paul Deleonale, così concorrenti all'attacco della piegata finale. Continua a progredire Paul Deleonale che ha trovato l'anticipo di prima del Sile che però sembra poter aggirare. I due continuano ad arrivare, sbaglia intanto in corda Palaia, Pensiero di Mar in vantaggio, completamento della piegata, ingresso in dirittura con Pensiero di Mar in vantaggio. In seconda posizione Pussichet e in, poi a centropista lo scatto di prima del Sile, sbagliato Paul Deleonale, squalificato. Pussichet e in sta attaccando, sbaglia Pensiero di Mar e allora disco verde per Pussichet e in che va a concludere. Davanti al 12 di Pandora del Sauro e all'11 di prima del Sile, 10-12-11 il probabile arrivo di questo premio MSC Crocere. Si impone Pussichet in quota 2,15, 10-12 da copiata, non era fra quelle maggiormente giocate.